Passiamo alla serata A500 Mini, The 500 Mini, la mia mini console che emula un Amiga 500 e altri hardware Amiga, anche 1200 e Amiga CD32, gioco al porting Street Fighter 2 The World Warrior, l'orribile porting di USA Gold che veramente all'epoca faceva cagare e fa cagare ancora oggi, all'epoca avevo un mio vicino di casa che aveva l'amica e aveva questo port e quasi lo invidiavo, che a dirla tutta, diciamo, visto da fermo questo gioco sembra quasi, non di qualche perfect ma ci va molto vicino, però appena lo attiviamo, diciamo così, potete vedere tutta la merda di cui è fatto, con animazioni scattose, prive di tanti frame di animazione, fisica totalmente sballata, musiche messe negli stage sbagliati, gameplay veramente raffazzonato, mostre speciali praticamente impossibili da eseguire, però la grafica devo dire, visto da fermo veramente, secondo me anche meglio del porting Super Nintendo, dal punto di vista grafico, se non badiamo alle animazioni veramente scattose e alla fisica super sballata, questa poi la musica dovrebbe scimmiottare la musica della schermata di selezione dei personaggi, che lo stage di Dalsing non c'è zecca la mazzata, vabbè, poi ovviamente manca il parallax scrolling per carità, all'epoca quasi invidiavo il mio amico che aveva questo port, possessore di amica, devo dire che dopo averlo giocato non lo invidio più, certamente il porting di Super Street Fighter 2 è ben superiore, anche se graficamente è inferiore, è molto più giocabile, poi sempre sul mio 500 mini c'ho anche il porting di Super Street Fighter 2 Turbo per amica CD32, fa cagare quasi quanto queste, anche se graficamente è veramente quasi arcade perfetto. You can fire! Nella rivista dell'epoca quasi lovantavano sto titolo perché veramente graficamente era, secondo me visto da fermo e immobile era stupendo, veramente molto simile all'arcade, però in movimento faceva tanto, tanto, ma tanto cagare. Come si fa nelle poste speciali? Vabbè con la mano sulla è quasi impossibile, con un sistema di controllo ovviamente due tasti, vabbè, buona!